A proposito dei piaceri della vita, il sesso è una bellissima cosa, ci mancherebbe altro, ma per come la vedo io, dopo una certa età è anche una gran faticata, è un po' come fare un traslore, no? Vai continuamente in su e in giù sudando e ansibando, con il rischio poi di mettere qualcosa nel posto sbagliato. Vi aspetto a teatro, la giovinezza è sopravvalutata. È brutta, è brutta, brutta, brutta.